calma 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 un minuto di respiro un minuto anche di silenzio incredibile napoli spartak mosca finisce 3 a 2 con la vittoria dello spartak mosca allora questa è la prima di sconfitta per spalletti ma in europa league la prossima sfida deve essere importante ricordiamo che in questa sfida il napoli ha giocato con le riserve perché spalletti ha voluto far riposare i titolari per la partita di domenica a franchi contro la fiorentina decide col del 1 a 0 elmas con un gol per un minuto il gol più veloce di questa europa league viene espulso mario come un coglione cosa mi fai mario lui cosa mi fai mario lui mario lui mi fa sempre le solite cazzate bravo mario lui bravo si buona manca a prendere il pesce il pesce che sto stando in coppa coppa stazione napoli a poco parola non si fa niente c'è mario lui poco parola non si fa niente poi a posto di lollo entra malcuit malcuit un terzino ma anche un esterno ottima idea per grande spalletti poi dici del gol della parità il quincy promise allora dico ma sta partita non è stata una partita è stata una partita di fifa che quincy promise è pagato su foot cioè su foot era 92 di velocità che era un morto poi va a segnare michael ignatov con l'assistema di os viene espulso kaufritz che salterà la prossima giornata la prossima giornata contro il leicester e no e raio lui salterà con la partita contro il lega di varsavia la doppietta di quincy promise con la silvi slow blab e al novantesimo proprio osyman e con questa rete osyman raggiunge i gol quasi di benzema e mo osyman deve fare la prossima rete deve andare contro la fiorentina per distaccare la benzema io dico che il napoli ha giocato un ottimo primo tempo ma si è perso durante il secondo tempo il napoli adesso si trova terzo con tre punti al secondo posto la lega di varsavia ha vinto con l'eister 1 a 0 e adesso si trova al primo posto e il napoli se vince con la legge di varsavia potrebbe essere sconquistato il secondo posto e fermare la lega di varsavia ma tutto dipenderà dall'eister city cosa farà contro lo spartac mosca lo scopriremo presto il napoli deve migliorare deve migliorare infatti sono subito già lavoro per la partita contro la fiorentina e le prossime campionato la terza sarà quella importante contro la lega di varsavia che deciderà l'intero girone passiamo subito vabbè tra scrum grazio piazvundo finisce 4 a 1 vittoria per gli olandesi la società del bonaco pareggio a cui in spagna la lega di varsavia vince vabbè abbiamo detto prima venerbace olimpiakos finisce 3 a 0 vittoria sui greci l'antra francoforte vince in caso dell'amversa e il marsiglia la tessai pareggiano la lazio lo co in bosca la lazio approfitta del pareggio del marsiglia gretti di toma basic con la spedro e patrick con la sigla cervi basic che segna il suo primo gol con la maglia della lazio in europa league e segna patrick che non lo vedremo a segnare da molto la lazio si trova a tre punti e si trova al secondo posto durissima la sconfitta contro dalla tasarai e adesso la lazio si trova a tre punti galatasarai a primo con quattro con mosca per un punto quindi la prossima sarà contro in marsiglia contro contro il galatasarai e la lazio se la vedrà contro in marsiglia e allora questo allora per la lazio ha giocato un'ottima partita che si è già confermata già un'ottima partita nel derby sarri questo era ciò che voleva sarri tantissima prestazione della lazio meglio della napoli che affronta le cui la cucina dell'oro come bosca meglio del napoli percibono vedere prunolo come di bosca cioè la lazio riesce nel suo intento a battere questa squadra tra il dudo gorex se la rossa finisce 1 a 0 per i vittori per i serbi la spaz praga mi dice se non finisce 3 a 1 vittoria del portoghese viene per la rossa il real betis 3 a 1 vittoria per gli spagnoli il settic perde con il bai alercusi in casa il gang perde con la dino alzagabia il west ham vince con il rapid vien tra invece badando della roma finisce 3 a 0 contro lo zoria all'uask quindi la roma porta tre punti nel suo girone in conference league a segnale scara con l'assid arboe va a segnale smon con l'assid istante la chiude avrà con l'assid zannolo la roma sconfiene la prima ancora nel girone il zoglio all'asca ancora a secco di punti e quindi il csk sofia un punto è il voto clint con quattro punti attenzione come print che riesce a vincere anzi a pareggia vincere a pareggiare contro il csk sofia un punto che non basta ma il print assolutamente deve portare punti infatti la prossima spira della roma secondo prendo conto il glint e quindi lo vedremo presto grandissima prova della roma e con questo si chiude questo post partita della seconda giornata della fase gironi europa league e la partita abbiamo parlato al più della roma in conference league il nuovo saluto è tutto noi siamo saluti è tutto